A voi tutti ben ritrovati da Giuseppe De Vitis, è giunta aria fredda, il vento in rinforzo ma da noi è andata migliorando velocemente, tanto per cambiare, anzi i disturbi sono stati davvero pochi ed avremo ancora bel tempo. Quindi un mercoledì all'insegna del bel tempo ma vi annuncio che anche il fine settimana sarà bello e tra l'altro con temperature in aumento di nuovo su valori almeno durante il giorno primaverili, poi di notte farà fresco o freddino. Comunque avremo un bel mercoledì con cielo sereno dappertutto su tutto il nord ovest, vediamo le temperature, vediamo le temperature naturalmente minime perché farà fresco come detto, anzi freddino nonostante l'aumento però comunque di notte al primo mattino bisognerà coprirsi per bene. Guardate infatti in alcune zone aperta campagna avremo valori anche poco sopra dello zero, valori attorno ai 2-3 gradi centigradi, temperature massime invece attorno ai 14-16 gradi, sulla costa anche 15-17 gradi. Per il momento è tutto, non ho altro da aggiungere cari amici, ora vi lascio ai nostri programmi, arrivederci. Grazie. Grazie.